8 dicembre 1980. A New York è assassinato John Lennon, anima dei Beatles, la più famosa band della storia del rock. Dopo lo scioglimento del gruppo, Lennon ha continuato la carriera da solista e si è dedicato, insieme alla compagna Yoko Ono, all'attivismo politico pacifista. L'ex Beatle è colpito da 5 colpi di pistola sparati da uno squilibrato Mark David Chapman davanti al residence dove vive a Manhattan. L'assassino, ex fan dei Beatles, accusa Lennon di aver tradito gli ideali della sua generazione.